Oh, vedi che c'è tuo figlio che vuole fare dolcetto scherzetto Papà, andiamo a fare dolcetto scherzetto Facci tu, è una cosa che fanno i bambini No, io mi vergogno E allora non lo fare Tuo figlio lo deve fare e siccome si vergogna lo fai tu per il tuo figlio, va bene? Andiamo a fare dolcetto scherzetto Allora, sentitemi bene, io sto dolcetto scherzetto non lo faccio Allora, da te, da te 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 Abbi accetto? Che che? Dott'cet? 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 Ecco, ecco fatto Dolcetto scherzetto Abbi accetto il gabinetto? No E l'accompagnare io? Ma scherzio Non devo andare al gabinetto E dove devo andare? ma buttare dolcetto scherzetto un malletto in gabinetto si facciamo la cacarena ehi cacarena buonasera dolcetto scherzetto chi ha detto? waka waka era impegnata a ballare shakira waka 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 dolcetto scherzetto non posso perchè? perchè mi stia mangiando tutto io grazie arrivederci ancora dobbiamo possa oh santissima che spavento buonasera sorella mi scusi non è che a mio pare vestito così da zorro uno si spaventa veramente sarebbe giacola vabbè fottetino dolcetto scherzetto ma dolcetto caro aspetta qui sull'uscio della porta ecco qui scelga scelga pure all'imbarazzo della sciolta della scelta comunque prendo questo qua che so che a mio figlio gli piace vabbè ma uno solo caro ma perchè non prende questo? prende anche questo grazie sorella lei è troppo gentile sorella posso prendere un mon cheri perchè sa questo piace a me prendine quanti ne vuoi grazie sorella gentilissima una buona serata eh 50 euro come 50 euro? eh 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 50 euro? ah se pagano i cioccolatini ma carissimo io li ho comprate mica li posso regalare a tutto il palazzo no vabbè sorella ma a mio figlio poi non è che ci piacciono proprio i cioccolatini l'unica volta preferisce le caramelle lei non ce l'ha quindi poi a mio figlio che cosa gli piace? il bacio ci può venire lei il pezzo con bacio io lo vedo io ho preso il mon cheri io già a casa c'è il zanzaro quindi se ci metto pure un mon cheri mi tocca spruzzare il bagono questa sera quindi ecco alla fine sto prendendo questi due va bene? c'è te vedete che fate sconti black friday sorella ho soltanto 50 euro se mi dai il resto grazie lei è veramente gentile proprio non ce l'aspettava caro ma io sono sorpresa dolcetto o scherzetto? scherzetto te va a buttare il mon cheri dolcetto o scherzetto? quasi ti senti divertito a fare dolcetto o scherzetto? iiii che cosa ti hanno dato? un sacco di mon cheri un pugno da faccia